I negoziatori di Russia e Ucraina si trovano a Istanbul, impegnati in un nuovo round di colloqui per porre fine alla guerra. La neutralità dell'Ucraina e lo stato delle aree contese nell'est del paese saranno probabilmente oggetto di discussione, ma con l'invasione russa in stallo su vari fronti è più difficile che il governo di Kiev faccia concessioni sulla propria integrità territoriale. La Turchia, che è membro della Nato, ospita il dialogo perché mantiene stretti i rapporti con entrambe le parti e il suo presidente rimane ottimista sull'esito delle trattative. Vedremo brevemente le delegazioni prima del loro incontro. Posso dire che le conversazioni telefoniche avute con Putin e Zelensky vanno nella giusta direzione. Meno positivo il ministro degli asteri russo, Sergei Lavrov, che ieri ha allontanato la possibilità di un incontro a breve tra i due presidenti. La crisi in Ucraina, il conflitto all'interno dell'Ucraina è in corso da così tanto tempo e presenta così tanti aspetti problematici che ora sarebbe controproducente incontrarsi solo per ribadire le proprie opinioni a riguardo. Mentre in Turchia si dialoga, in Ucraina continuano i combattimenti. Il sindaco di Kiev ha dichiarato che l'esercito ha ripreso il controllo del subborgo di Irpin, uno dei principali snodi dell'offensiva russa intorno alla capitale. Ma nel sud-est del paese, la città di Mariupol resta sotto assedio, con circa 160.000 civili intrappolati senza cibo, acqua e medicine. Secondo le stime sarebbero già morte più di 5.000 persone.